Mary Jane ASMR Ciao ragazzi Sono un po' di là d'oggi, ho cambiato un po' le cose Benvenuti in una nuova puntata dei trigger, dei magici trigger soporiferi e dove trovarli Ragazzi, questo di oggi sarà, come avrete già capito, un video trigger Ci rilasseremo, ci rilasseremo davvero tanto Davvero tanto, quindi buon ascolto Ma soprattutto, soprattutto, buon relax Iniziamo dal primo Sapete cos'è questo? E' il ventaglio di Sailor Moon Era da tempo che ve lo volevo far vedere Ve l'hanno regalato i miei cugini Quest'estate Estate appena passata Lo trovo bello come risolto il trigger, ragazzi E' anche come trigger, chiaramente Anche C'è Sì Iniziamo C'è Grazie. 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 La mia amata Sailor Moon, io la adoro. Poi passiamo questo qui al cubo, al dato. L'altro trigger. Quello dei guanti. Grazie. 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 La prima parte è tagliata senza altro. l'ho più clicca nodo antistress ed infine le carte il 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 Grazie. 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 Spero che tu in questo video ti sia rilassato. Io spero proprio di sì. Ci rivediamo al prossimo video. Ciao.